Spilata notturna oggi per Istrana, 10 i carri giunti con diversi gruppi che hanno fatto gli straordinari giungendo dal vicino carnevale pomeridiano di Preganziol. E proprio come a Preganziol, la sorte analoga fa sì che anche a Istrana il carnevale si festeggi con una settimana di ritardo a causa del maltempo. Partenza alle 20 dal centro sportivo e parata per via Capitello e via Cesare Battisti con arrivo in piazza Franceschetti. Nel paese che ospita il 51esimo stormo dell'aeronautica molti i carri in tema aereo. Potete rivedere la manifestazione in replica giovedì alle 15 su Premium 2 mentre una sintesi vi aspetta nel nostro canale YouTube. Vi lasciamo ora con i momenti salienti di questa sera. Sfisciamar Channel News, Istrana. Sfisciamar Channel News, Istrana. Sfisciamar 관�i Cialuris Grazie a tutti 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 Grazie a tutti